Ancora Col Diretti aderisce al progetto Scegli Napoli. Sì, Col Diretti Napoli e Campagna Amica aderiscono al progetto Scegli Napoli dell'amministrazione comunale. Siamo contenti, è la dimostrazione che un'altra grande realtà importante aderisce ad un'iniziativa che ha un grande valore, e cioè quella di valorizzazione, difesa e tutela delle nostre eccellenze locali, dei nostri coltivatori e dei nostri produttori, ma anche il valore fondamentale di sensibilizzare i cittadini e i consumatori all'acquisto di prodotti realizzati da aziende napoletane, perché sostenere quelle che sono le nostre realtà locali vuol dire sostenere l'economia del nostro territorio, e quindi la crescita, lo sviluppo e la rinascita di un territorio che ha grandi opportunità e che può essere volano di lavoro, soprattutto, e di buona occupazione per i tanti giovani della nostra terra. Quindi oggi siamo qui, siamo a Piazza Salvatore di Giacomo, per noi un altro importante tassello che si unisce a quella che è una grande iniziativa con la quale, ovviamente, pensiamo di andare sempre più avanti e che siamo convinti, come amministrazione, di portare avanti con tutti gli sforzi necessari affinché Scegli Napoli sia sempre di più un progetto strutturato e metta in rete e quindi a sistema le grandi realtà del nostro territorio, ma soprattutto garantisca reali opportunità di crescita e di riscatto per la nostra terra. Direttore Loffreda, l'importanza di aderire a un progetto come Scegli Napoli? Beh, per Coldiretti era naturale, nel senso che questa iniziativa che il Comune ha intrapreso come di compra e scegli Napoli e prodotti campani, ma soprattutto napoletani, ci vede noi protagonisti come mondo agricolo, perché voglio dire, noi con la nostra filosofia del chilometro zero certamente sopportiamo un'idea che il Comune ha fatto sua e noi in questa fase non potevamo rimanerne fuori e dargli un valore aggiunto e stamattina stiamo dimostrando, con la nostra capacità di rappresentare qui in una piazza meravigliosa di Napoli, con una giornata di sole che ben ci ha accolto stamattina, qual è il valore della produzione dell'agroalimentare campano. In Napoli quindi la filosofia del chilometro zero, quanto è importante per Coldiretti questa filosofia? Per Coldiretti è importantissima perché Campagna Amica è uno dei progetti base proprio della Coldiretti, è quello che permette praticamente di avere un riscontro tra il produttore e il consumatore, altrimenti il produttore sarebbe lì a produrre il semplice prodotto e non ha un riscontro poi con il cittadino. Napoli è una città che lo fa già da diversi anni, quindi il chilometro zero qui di base è già qualcosa che funziona, si vede da tutti i mercatini, dalle persone che vi partecipano, però chiaramente Scegli Napoli permette, a maggior ragione, di mettere in risalto il prodotto campano in generale, Napoli chiaramente, la città, e quindi non fanno altro che premiare sia i nostri produttori, ma permette anche al consumatore di avere una scelta consapevole di ciò che sta acquistando, ciò che sta mangiando, perché a oggi è più difficile capire realmente chi sono i produttori, cosa andiamo a mangiare, quindi il chilometro zero è fondamentale. Il progetto è sopra cibo falso per tutelare appunto i consumatori, tutelare i consumatori facendo capire l'origine dei prodotti, questa è la battaglia di Coldiretti, Coldiretti che vuole tutelare il prodotto italiano, un prodotto made in Italy e all'etichettatura, tramite l'etichettatura, che oggi è presente solo su pomodoro, riso e grano, mentre invece la battaglia di Coldiretti è quella di far conoscere la provenienza, quindi il made in Italy di tutti i prodotti e non solo di questi.